Vis per Miriam e Catania. Dopo Jacques, nato lo scorso 13 maggio, l'attrice romana sarebbe di nuovo incinta del compagno, il pubblicitario Quentin Cammerman. L'indiscrezione arriva dal settimanale, Spy, che racconta come i due avessero gli allargare la famiglia già da un po'? Oggi, poi, le forme morbide sfoggiate dalla bella Miriam lasciano intendere che i sogni si sono esauditi. La lieta notizia arriverebbe a due anni dal primo incontro, avvenuto nell'estate del 2015 durante una vacanza di Biza. Al momento l'attrice vive a Roma, il compagno a Parigi, ma la loro relazione a distanza sorretta da continui viaggi tra l'Italia e la Francia sembra proprio funzionare alla grande. La storia di lei con Luca Argentero, 12 anni insieme, di cui 5 di fidanzamento e 7 da marito e moglie, è ormai alle spalle.